Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo, farò, scusate, un video tag E vi parlerò di tutti i miei glitter Oggi vi faccio vedere tutti i glitter, anche quelli a forma di quercino, stelline, eccetera eccetera E un altro giorno farò un altro tag in cui vi farò vedere tutti i miei strass invece Perché li ho messi in posti separati e mi andava di fare due video diversi Bene, per prima cosa vi faccio vedere quelli che ho divisi da questa scatola Come vedete ho una scatola intera Ma ce ne sono altri che ho messo da un'altra parte Vorrei cominciare proprio con quelli Allora, per primo vi faccio vedere questi, che sono quelli che conoscete di più Sì, ho compiuto un balacolino Prima c'era quello della Mellin, ora l'ho cambiato Spero che si vedano Ecco, questi sono quelli più famosi che vedete in quasi tutte le mie creazioni E sono quelli ad effetto sirena Come potete vedere sono... Sono stupendi Perché sono pure olografici Ecco qui Li ho messi in questo balacolino di Tiger Perché non so, mi fidavo di più Perché si avvita bene, quello non si avvitava Questo è il primo Lo mettiamo qua Che è meglio Ecco Poi vi faccio vedere questi che sono sempre ad effetto sirena Ma sono più grossi di quelli E vedete Nile Art Mermaid Effetti Glitter 20 grammi Battle Questi li ho presi da AliExpress Io prendo quasi sempre glitter da AliExpress Poi ho questi Quest'altro contenitore, diciamo E ho questi qui a forma di cuore Che sono bellissimi, azzurri Poi questi qui che io adoro Che sono a forma, diciamo, di stellina olografica Questi qui Bianchi, normali Non so se si vede bene Questi bianchi E infine questi a forma di stellina arangione Che sono veramente bellissimi Questa scatola è finita La mettiamo qui Adesso cominciamo con questo scatolone gigantesco Aspettate che ve lo faccio vedere bene Eccolo qui Adesso vedremo uno scompattimento alla volta Ok Apriamo E cominciamo con questi Rosa Troppo carini Poi vediamo Ho questi azzurri Che io adoro Questi verdi a forma di cerchio Sono nuovi, non li ho mai usati Ecco qua Questi a forma di fiorellino Ecco così si vedono Poi Queste microsfere Rosse Questi glitter rossi Poi abbiamo Questi qui a forma di mezzaluna viola Che non si vedono assolutamente Ecco Mi metto così così Se li potete vedere bene Questi qui a forma di rombo Blu Che sono nuovi, nuovi Mai usati Adesso velocizzerò il video Se no non finiremo mai Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.